Musica Ciao a tutti ragazzi siamo qui con un episodio di Final Fantasy Fakway Però prima di iniziare volevo solamente dire che i 4 boss, Mangol, i tuoi Bonnie, i tuoi Chica, i tuoi Fred Non sono stati registrati più il Puppet Cosa vuol dire? La registrazione c'è, però l'audio non si sente Quindi adesso vi farò vedere quando li ho sconfitti Quando li ho sconfitti? I'll do anything, I'll do anything for you Compromise myself in a victim's solitude Being flexible was supposed to prove that I love you You take advantage every chance you get You break my heart at every chance you get You let me know that every chance you get Will protect me, but you're lying You're using my love 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 Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Okay. Grazie a tutti. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Proprio... Ok, volevate... No, 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 no... Ok, 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 ok Nooo, Grinzio! Perché lo sono per quarti altri problemi? Eh, però Bonny mi serve Bonny Bonny mi serve Ok Ah, bebe la Oh, la quarta C'è qua? Alla prossima! ma grazie 666 di nano che bello quindi in teoria ho visto che ho fatto 666 teoria potremmo fare il backup best che ci riesce quindi il prossimo backup best dovremmo fare a te la fortuna di mamma mia grazie c'è qualcosa che non può fare c'è qualcosa che non può fare ok c'è qualcosa che non può fare e anzi non muori ti intiro io vengo lì non ho scelto di idee non ci vuole che è così è stato molto zanotte non va bene non va bene Allora! C'è abbastanza più umani! Grazie! Grazie a tutti. 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 Basta. Grazie a tutti. Quando vuoi? Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao.